Oggi c'è RadioRomaLibera.org, la prima emittente di podcast 14 in Italia. Per saperne di più è possibile visitare il sito www.radioromalibera.org Il 31 gennaio la chiesa ricorda San Giovanni Bosco. Nacque il 16 agosto 1815 in una modesta cascina, nella frazione collinare I Becchi, di Castelnuovo d'Asti, oggi Castelnuovo d'Ambosco. Era figlio dei contadini Francesco Bosco e Margherita Occhiena. Quando Giovanni aveva due anni, il padre contrasse una grave polmonite che lo condusse alla morte il 12 maggio 1817, a soli 33 anni. Francesco Bosco lasciò la moglie vedova a 29 anni, con tre figli da crescere, Antonio, Giuseppe e Giovanni. Inoltre la madre dovette provvedere al mantenimento e all'assistenza della suocera, Margherita Zucca, anziana e inferma. Erano anni di carestia e mamma Margherita, come sempre sarà chiamata dai salesiani, dovette lottare e lavorare i campi con grande sacrificio, per assicurare il sostentamento alla famiglia, e anche per assecondare i talenti scolastici di Giovanni, malvisto dal fratellastro Antonio, il quale considerava tempo e denaro gettati quell'occuparsi di libri, mentre lui era costretto a zappare la terra. A nove anni il piccolo Giovanni fece un sogno e da allora fino alla fine dei suoi giorni continuerà ad essere visitato da sogni e rivelazioni che gli indicheranno la sua strada e lo faranno portavoce di profezie dirette ai singoli, alle società, ai suoi amati giovani, alla congregazione salesiana, alla chiesa. Lui stesso definì profetico quello dei nove anni e che più volte raccontò ai ragazzi del suo oratorio. Gli pareva di essere vicino a casa in un cortile molto vasto dove si divertiva una gran quantità di ragazzi. Alcuni ridevano, altri giocavano, non pochi bestemmiavano. Al sentire le bestemmie, egli si lanciò in mezzo a loro cercando di arrestarli usando pugni e parole. Ma in quel momento apparve un uomo maestoso, nobilmente vestito. Il suo viso era così luminoso che egli non riusciva a guardarlo. Lo chiamò per nome e gli ordinò di mettersi a capo di tutti quei ragazzi. Giovanni gli chiese chi fosse colui che gli comandava cose impossibili. Io sono il figlio di colei che tua madre ti insegnò a salutare tre volte al giorno. In quel momento apparve vicino a lui una donna maestosa e in quell'istante al posto dei giovani c'era una moltitudine di capretti, cani, gatti, orsi e parecchi altri animali. La Madonna gli disse, ecco il tuo campo, ecco dove devi lavorare. Cresci umile, forte e robusto e ciò che adesso vedrai succedere a questi animali tu lo dovrai fare per i miei figli. Fu così che al posto di animali feroci comparvero altrettanti agnelli mansueti che saltellavano, correvano, belavano, facevano festa. Dopo questo sogno, in Giovanni si accese la vocazione sacerdotale. Per avvicinare i ragazzini alla preghiera e all'ascolto della Santa Messa imparò i giochi di prestigio e le acrobazie dei saltimbanchi attirando in tal modo coetanei e contadini i quali venivano da lui invitati a recitare il Santo Rosario e alla lettura del Vangelo. Il 26 marzo 1826 Giovanni ricevette la prima comunione. Divenuta insostenibile la convivenza con Antonio Bosco Margherita fu costretta ad allontanare il figlio dei becchi mandandolo a vivere, come a Garzone, a Moncucco Torinese nella cascina dei coniugi Luigi e Dorotea Moglia dove rimase dal febbraio 1827 al novembre 1829. Nel settembre di quello stesso 1829 era arrivato a Morialdo il cappellano Don Giovanni Melchiorre Calosso sacerdote settantenne il quale dopo aver constatato quanto intelligente e desideroso di studiare fosse il giovane decise di accoglierlo nella propria casa per insegnargli la grammatica latina e prepararlo così alla vita sacerdotale. Un anno dopo, precisamente il 21 novembre del 1830 Don Calosso fu colpito da apoplessia e Moribondo gli è dal giovane amico la chiave della sua cassaforte dove erano conservate 6.000 lire che avrebbero permesso a Giovanni di studiare ed entrare in seminario ma il giovane preferì non accettare il regalo del maestro e consegnò l'eredità ai parenti del defunto. Quando il 21 marzo 1831 il fratellastro si sposò la madre decise di dividere l'asse patrimoniale affinché Giovanni potesse tornare a casa e riprendere da settembre gli studi a Castelnuovo con la possibilità di una semipensione nella dimora di Giovanni Roberto sarto e musicista del paese dal quale apprese tali arti imparò anche altri mestieri come quello del falegname e del fabbro e con queste abilità riuscirà a fondare diversi laboratori artigianali per i ragazzi dell'oratorio di Valdocco a Torino per continuare a studiare a Chieri lavorò come garzone, cameriere, addetto alla stalla alla scuola chierese fondò la società dell'allegria attraverso la quale in compagnia di alcuni bravi giovani tentava di far avvicinare alla preghiera i coetanei divertendoli con i suoi giochi di prestigio e i suoi numeri acrobatici in quegli anni strinse forte amicizia con Luigi Comollo nipote del paroco di Cinzano Don Bosco stesso affermerà nelle sue memorie posso dire che da lui ho cominciato a imparare a vivere da cristiano e comprese quanto fosse essenziale la salvezza dell'anima tanto che il suo programma di vita fu sempre da mi animas eccetera tolle dammi le anime prenditi tutto il resto questo motto era scritto a grossi caratteri su un cartello che teneva nella sua camera a Valdocco nel marzo 1834 mentre si avviava a terminare l'anno di umanità presentò ai francescani la domanda per essere accettato nel loro ordine ma cambiò idea prima di andare in convento seguendo sia un sogno contrario a questa scelta sia il consiglio di Don Giuseppe Caffasso perciò il 30 ottobre 1835 si presentò nel seminario di Chieri dove rimase fino al 1841 il 29 marzo di quell'anno ricevette l'ordine del diaconato e il 5 giugno venne ordinato sacerdote nella cappella dell'arcivescovado di Torino Don Bosco dopo aver rifiutato una serie di incarichi su invito di colui che continuerà ad essere suo stimato e amato direttore spirituale Don Caffasso decise di entrare i primi di novembre del 1841 nel convitto ecclesiastico di San Francesco d'Assisi di Torino fondato nel 1817 da Don Luigi Guala e dal venerabile Pio Brunone Lanteri perché constatando gli errori seminati fra il clero dal jansenismo e il vuoto formativo in cui erano lasciati i neosacerdoti essi desideravano offrire una sana formazione ecclesiastica La linea teologica adottata da Lanteri e da Guala era di stampo ignaziano ed alfonsognano più benigna misericordiosa e positiva rispetto a quella rigorista insegnata alla facoltà teologica dell'Università di Torino Gli allievi del convitto nel quale Don Caffasso entrò nel 1834 venivano anche avviati all'attività pastorale con diverse esperienze nelle parrocchie della città si curavano poi in modo particolare la vita spirituale e la preghiera nella terra subalpina prendono vita i moti risorgimentali e la chiesa duramente perseguitata sotto Napoleone ora si appresta dopo il regno del cattolico Carlo Alberto salito al trono nel 1831 molto attento alla riforma del clero avendo stabilito un fecondo accordo con Papa Gregorio XVI a ricevere feroci attacchi dal governo liberale e massolico in seguito alla tragica guerra dichiarata dall'illuminismo e dalla rivoluzione francese alla chiesa sorse un'energica risposta di ricristianizzazione l'amicizia cristiana fondata dallo svizzero Nicolaus Josef Albert von Diezebach un militare a servizio di casa Savoia che dopo la conversione al calvinismo entrò nella compagnia di Gesù l'amicizia cristiana iniziativa che seppur segreta ebbe ampia risonanza in tutta Europa sorse fra il 1679 e il 1680 a Torino l'eredità di padre Diezebach venne raccolta da padre Brunone Lanteri fondatore degli Oblati di Maria il quale contro i seminatori della menzogna e dell'eresia fece sorgere l'amicizia cattolica con lui altri amici i devoti del Sacro Cuore di Gesù sostennero la chiesa e lo fecero leggendo e studiando testi di Sant'Ignazio di Loyola Sant'Alfonso Maria degli Guori San Francesco di Sales Santa Teresa d'Ale La preparazione di Don Giovanni Bosco nel convitto durò tre anni un giorno era l'8 dicembre 1841 un muratore di 16 anni Bartolomeo Garelli arrivato da Asti orfano analfabeta e povero si presentò nella sacristia della chiesa di San Francesco d'Assisi ed egli fu il primo ad essere istruito da Don Bosco è il prototipo di tutti i giovani di tutte le famiglie e di tutti i popoli che San Giovanni Bosco ha evangelizzato proprio con Garelli nacque l'oratorio di San Francesco di Sales e dopo pochi giorni giunsero con lui sei ragazzini e altri si aggiunsero mandati da Don Caffasso si dice che Don Bosco si occupò della gioventù povera per sollevarla dalla miseria e dall'ignoranza offrendo anche la possibilità di qualificarsi con un lavoro per mantenersi dignitosamente nella vita ma in realtà l'unico vero fine dell'azione sociale di Don Bosco fu quello di portare il maggior numero di anime in paradiso partendo proprio da quelle che la provvidenza gli affidava e là dove c'è cristianizzazione c'è civilizzazione Don Bosco non fu un santo sociale mai i suoi primi collaboratori e biografi hanno utilizzato questa definizione perché i santi sociali non esistono come non sono esistiti nella Torino dell'Ottocento questa è un'accezione modernista che punta sulla falsa convinzione che la rilevanza anche religiosa di una persona e o di un'azione dipenda dai benefici materiali e socio-economici che apporta alla collettività e soprattutto alle classi sociali più disagiate Don Bosco come tutti i santi era animato da un fuoco di carità vale a dire dall'amore adorante verso Dio e per amorosa obbedienza all'Onnipotente da un fuoco d'amore verso il prossimo il fondatore dei Salesiani insegnava prima di tutto a trattare con il mondo senza farsi schiavi del mondo ed è proprio questa libertà che respirarono e vissero i suoi giovani i quali attraverso gli occhi e le amabili parole di Don Bosco compresero davvero il significato delle parole paradiso ed inferno il 12 aprile 1846 giorno di Pasqua Don Bosco trovò un posto per i suoi ragazzi la tettoia Pinardi a Val d'Occo qui oltre all'oratorio festivo presero avvio le realtà educative le scuole serali la scuola di musica canto i laboratori per dare una professione ai suoi amati figli e nel 1854 Don Bosco diede inizio alla società salesiana con la quale assicurò la stabilità delle sue opere dieci anni dopo porrà come aveva visto in sogno la prima pietra del santuario di Maria Ausiliatrice ancora oggi è visibile nella cappella delle reliquie della basilica il punto preciso dove la Madonna indicò il sito dove sarebbe sorta il metodo educativo di Don Bosco che si prefiggeva di formare degli onesti cittadini e dei buoni cristiani e la sua attività ispirata dall'autentica carità cristiana hanno raggiunto tutto il mondo Don Bosco fu anche un prolifico scrittore ebbe una predilezione per l'apostolato e la battaglia anticattolica della carta stampata per lui che aveva chiesto nella sua prima santa messa l'efficacia della parola un mezzo più adatto non poteva esistere sono da ricordare le diverse collane pubblicate per molti anni che hanno avuto un grande successo letture cattoliche biblioteca della gioventù italiana selecta ex latinis scriptoribus latini cristiani grazie a tutti